6 mesi di indagini e alla fine i ladri sono stati presi. Ma degli ori bene più caro ai tarquinesi, circa 5 kg di ex voto per un valore pari a 100.000 euro, nessuna traccia. Gli agenti del commissariato di Tarquinia, diretti dalle vice questore aggiunto Gina Cordella, hanno arrestato stamane l'autore del furto sacrilego commesso nella chiesa di San Giuseppe a Tarquinia, dove è custodita la statua del Cristo risorto. La cui teca è stata letteralmente svuotata di tutti gli ori votivi a tradire il ladro, una 69 anni di ostia. Sono state le tracce di sangue lasciate sul vetro infranto della teca. Denunciati altri due complici, il furto che gettò nello sconcerto l'intera città di Tarquinia avvenne a maggio. I ladri sono entrati in chiesa e poi, con una mazzetta e una fiamma ossidrica, hanno sfondato la teca del Cristo risorto per ripurirla di tutti i preziosi ex voto che conteneva, denunciati a piedi libero, i due complici. Prestazioni sociali agevolate. Primi risultati di accertamenti sulle domande svolti dalla Guardia di Finanza su richiesta dall'amministrazione comunale del sindaco Pagliotta. Denunciati 20 ladispolani. L'amministrazione comunale aveva infatti messo a disposizione della tenenza della Guardia di Finanza di Ladispoli tutta una serie di documenti che sono stati presentati dai cittadini per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate. Sotto la lente di ingrandimento dei baschi verdi sono finiti i contributi richiesti e concessi in materia di bonus bebè. Contributi per gli affitti, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità, telefono, luce, gas, segni di maternità ed altre tutele e sostegni per la genitorialità. Grazie alla fattiva collaborazione con la tenenza della Guardia di Finanza di Ladispoli, commenta l'assessore alle politiche sociali Roberto Ussia, ad oggi si è riuscita ad individuare 20 false autocertificazioni. Dagli accertamenti svolti dalla finanza, prosegue Ussia, è emerso che 20 cittadini hanno presentato una documentazione non veritiera. Ovviamente questo è solo l'inizio di un percorso che vedrà sempre più impegnata l'amministrazione comunale in collaborazione con le autorità preposte. I cittadini di Santa Marinella possono stare tranquilli. Claudio Iacobassi, governatore della Misericordia, l'associazione di volontariato che cura il servizio di assistenza ai cittadini mediante ambulanze, interviene sulla questione fossi a rischio e sondazione sollevata ieri dai consiglieri d'opposizione Benci e Mucciola che chiedevano all'amministrazione Bacheca di provvedere alla pulizia dei corsi d'acqua in un periodo in cui il rischio e sondazioni è reale. I due esponenti della minoranza invitavano anche il sindaco ad approvare in tempi brevi il piano della protezione civile. È vero che gli organi politici non hanno provveduto ad approvare il piano comunale di protezione civile, precisa Iacobassi, predisposto al suo tempo dal generale Guido Martinelli che a titolo volontario e gratuito aveva lavorato in tal senso. Purtroppo qualcuno non ha recepito l'importanza e l'obbligo per legge di normare la materia. È vera anche un'altra cosa, cioè che la professionalità e la preparazione delle forze di protezione civile esistenti, la propirgi, la misericordia e i sommozzatori che mantengono un'operatività costante e quotidiana, fa sì che il territorio sia sempre vigilato e monitorato, coordinandosi tra di loro con uno spirito di servizio che negli anni ha fatto un'eccellenza nella materia e lo dimostra anche l'attività fuori area delle tre associazioni per cui i cittadini, per quanto riguarda noi volontari, possono stare tranquilli. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato oggi due nomadi, un 31enne e un 38enne colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato e uso in debito di carte di credito. I militari della stazione di Cerveteri hanno avviato un'attività di indagine a seguito di una denuncia di furto avvenuto all'interno di un autocaravan adibito a privata abitazione, dal cui interno sono stati rubati televisore, macchine fotografiche, iPad, orecchini in oro, vari capi di abbigliamento ed una carta di credito utilizzata per effettuare incautamente spese complessive di 2.000 euro. Gli arrestati sono stati associati presso il carcere di Civitavecchia. I consiglieri regionali della destra, Francesco Ostolace e Roberto Buonasorte, hanno presentato un'interrogazione urgente sulle condizioni dell'istituto alberghiero Yvonne de Benac di Ladispoli e sulla mancata apertura del nuovo istituto in località Centro Civico. Recenti episodi di cronaca, dicono, hanno coinvolto in negativo il plesso scolastico del litorale, dove lo scorso 6 novembre un'intera ringhiera posta al decimo piano di un edificio a Tigua è crollata nell'area di ingresso dell'alberghiero. Sull'episodio è stato presentato un esposto alla procura di Civitavecchia ed è stato informato il dirigente scolastico. I vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato un'indagine su eventuali colpevoli.